sarà natale se come giuseppe daremo spazio al silenzio se come maria diremo eccomi a dio se come gesù siamo vicino chi è da sola è natale se come i pastori usciremo dai nostri recinti per andare a trovare gesù sarà natale se troveremo la luce nella povera grotta di 3 a gesù assaporeremo lo spirito vero del natale la bellezza di essere amati per i pastori accorsi per primi alla grotta restiamo stupiti di fronte al segno che dio ci ha dato un mila quattro fasce in silenzio ci inginocchiamo e adoriamo come maria e giuseppe stiamo davanti alla mangiatoia a gesù che nasce come pane per la mia vita contemplando il suo amore umile e infinito diciamoli semplicemente grazie grazie perché ha fatto tutto questo per me il bambino di petlande dio ci viene incontro per renderci protagonisti della vita che ci circonda sia anche perché lo prendiamo tra le braccia che lo solleviamo e lo abbracciamo se volevo festeggiare davvero questo natale contempliamo questo chiesto la semplicità fragile di un piccolo neonato l'amitezza del suo essere adagiato il tenero affetto delle fasce che lo vogliono lì c'è dio l'anzizio augura a tutte le famiglie tanti auguri di buon natale di cuore ma soprattutto la grazia di potrebbero ritrovare in famiglia in maniera serena in questi giorni sperimentando tutti insieme l'amicizia la vicinanza la paternità di dio che veramente non è strano a questi momenti che non è strano a queste giornate trascorse a questi mesi e c'è sempre vicino e ci sostiene troveremo certamente nei sacramenti nell'eucaristia nella preghiera è lì che lo troveremo in quest'anno soprattutto quest'anno tanti auguri carissimi tutti all'unni genitori docenti e personale amministrativo tutta la direzione dell'ailas vi augura un santo e sereno natale questi quattro messi sono stati messi difficili impegnativi e arriviamo al natale ci vogliamo riposare e vogliamo anche noi augurarvi per voi che sia un natale speciale perché l'esperienza dell'amore di chiesù bambino sono convinto che può e deve trasformare le nostre famiglie darci conforto e darci speranza se pensiamo proprio alla scena di natale come dice il vangelo di luca era notte gesù nasce nella notte proprio perché vuole significare che erano momenti bui momenti difficili una società che aveva bisogno di proprio speranza conforto di trovare una luce che illuminasi quei momenti così difficili i remaggi trovarono una stella che li portò proprio al presepe i pastori videro gli angeli che anche indicarono il presepe come segno e così anche noi ci auguriamo di scoprire quella stella di vedere gli angeli per poi trovare un bambino che ci riempie il cuore di gioia di speranza di amore i pastori poi tornarono pieni di entusiasmo e raccontarono quello che avevano visto e si trasformarono in motivo di speranza di gioia per tante persone questo anche il mio augurio per tutti voi facendo questa esperienza del natale e scoprire Gesù bambino poi ci trasformiamo anche noi in una stella ci trasformiamo in degli angeli siamo come Gesù bambino e doniamo speranza gioia conforto a tante persone che ci stanno vicino e che hanno pure bisogno di nuovo la direzione augura tutta la comunità islands è un santo e serone natale e anche un anno 2021 pieno di grazie e benedizione di dio tanti auguri di buon natale auguri di buon natale auguri a tutti buon natale buon natale a tutti voi buon natale a tutti tanti auguri tanti auguri e buon natale buon natale con l'augurio di un natale sereno e tranquillo un sincero augurio di buon natale e un caroroso abbraccio tanti auguri buon natale e che Gesù vi accompagni sempre tanti auguri e grazie per la vostra generosità tanti auguri di buon natale di buon anno sia un natale ricco di pace di riposo e di tanto tanto amore auguri mary christmas everyone and a happy new year sinceri auguri di buon natale a tutti voi e che l'anno nuovo sia un momento propizio per poterci riabbracciare di nuovo carissime famiglie tantissimi auguri di buon natale a voi e vostri bimbi auguri buon natale a tutti buon natale buon natale a tutti di cuore